una nuova live siamo qui con questa non mi ricordo si sono scandalo solo so si chiama giuseppino no si chiama monarca perché venia monarca ne ero sicuro così la mia mi è piaciuto hai capito no allora andiamo a giocare in solo ci postiamo a casa oggi ci fosse fino al 19 marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 7 livelli sentirelli ci possiamo portare a casa oggi tanti direi e giuseppe ok quindi vi visita siti di scavo di una squadra d'alpa sconfiggi ma anche in croning o shantan duello modifica strutture guida un quad annientatore a picco pinnacolo danneggia nemici con una pistola automatica ora non gioco per un po di giorni che c'è in live non puoi aspetta chiamiamo oh padre si no ti volevo dire una cosa è uscita è uscita una skin che prendendo è uscita giacomo io ti faccio qualcosa di molto brutto giacomo padre ti posso dire questa cosa si ci sono ancora dai matri è uscita una skin è uscita da 1200 io l'ho acquistata ho restituito bruno mars secondo te no padre secondo te convenuto da te attin dov'è scuole oh verso sorri eccolo è uguale ok avanti da un live aumenta di un livello sì 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 poi vicino vicino allora quello più vicino credo sia questo ok quindi no ok no poi è bellissima raga faccio pure più bella di bruno oggi non c'è nessuno raga ho ho dovuto perché pistola automatica quanti danni 200 danni ok 200 danni questo pistola automatico perché sono usciti pure gli stagionali raga oggi ci facciamo nove livelli con questa è 28 potrebbe non essere convenuto però chi se ne frega perché sei andata su ali bene 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 potrei sembrare stupidino però non lo sono la sicuro o turca al burante sale 30 di vita più di più di più di più giù 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 in vita con un gruppo public non riesco a fare manovra se sono davvero così anni capace e le vele 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 73 video poi dove dobbiamo andare uno vicino andiamo a chonger ah ma che c'è no quando non devi funzionare non funzioni ma no guarda ha fatto una vita proprio ma simone avrà fatto basket su vedo qua magari potrebbe essere una buona idea allora du 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 oddio oddio raga mettiamo lo schermo guarda guarda zucchina tesoro eeeh allora se non vuoi che ti faccia saltare in aria col piccolo cervello che ti ritrovi ti faccio porca di quella vacca io questo l'ammazzo guarda oh ma te ne vuoi andare in safe invece di rompere le zucchine ma rizza lo manizza non mi interessa niente a qua c'è una bill eh oh new level un livello Cioè aggiungi un livello Oltre a quello che già hai Ok Andiamo qua Cosa è qua sopra da ghost Sono distrutibili Cioè ragazzi a saperti non è che mi intero Oltre 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 Ma questa macchina è guidabile No ragazzi è fattibile Guardate Oltre 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 Ma perché trema Perché faccio così pochi fp Dov'è? Che posso nemmo nuova macchina c'è la morte da qualsiasi arma raga il dettaglio è abbastanza oltrepassato andiamo a pensare una persona è facilissimo io pensavo ho detto vabbè sarà la solita cavolata di epica se metteranno puoi fare qualcosa avete capito no certo avete capito no avete capito ma l'avete capito cingischiare se già l'avete capito vabbè è più veloce di un motoscafo ma io cosa li prendo a fare i motoscafi se lo liscio poi sono davvero così anticapace di prenderlo cosa ci fa un lama qui no funziona pure quella mano perché stiamo a ponte volete ponte b per un giro punto è un altro Tu stiamo? Siento Ok Raga quanto andiamo al osio? Musso per capire Musso messer stare Ok Il telefono Oh Ok Non 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 ci ho provato 190 per 3 anni ma va a dormire mi chiami appena poi ti devo dire una cosa poi chiamami appena poi butteremo 10 livelli di questa skin si ne sono consapevole Sì Me ne frega qualcosa No Ma stai fare peggio Queste Ragazzi Oggi Livello 90 Sicuro Che ci ne manca 3 No Allora possiamo fare Iniziare a fare Quelle stacione Ok Quello con Ok Abbatti un fino legnoso Guidando un veicolo Un veicolo Un veicolo Aterra pinnacoli I pendenti E sopravvi per 60 secondi Va bene Guida un quad annientatore A picco pinnacolo Picco pinnacolo Modifica strutture Modifica strutture Sconfiggi Ma anche in Cronin O Shanta In duello Visita Senti di scavo Di una talpa Ok C'è la Eh ma quanto è Nada Il piccone Ci mettiamo questo Il piccone Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma che sono quei quad, roba strana, varia? Non ho ben capito. Posso non aver capito? Grazie. C'è scritto. Riffi, il struttore danneggia un quad annientatore. No, guida un quad... A guida fin da quello. A picco fin... No, no, no. No, no. No, no. Eschifo! No, no, no. Allora, attetemi... Mi... Mi... Oggi mi dai che vinca... Tua sorella. Oh no. Possibile da sconfiggere. Ho divisa la pistola. È da lontano proprio. Me... Me... Eh... Che raga... Raga... Non posso fare così... Eh... Cioè se lo faccio così... No... Ha piglia danno? Raga, sto fermo. Non ho la visuale, no. Non si percepisce. Sì... Eh... Ok... Tesoro, dai... Ho capito. Sì... Raga, potrei essere diventato uno scioppone. Sì... Ci sono sempre gli stessi... Ma... Cioè... Vorrei affermare... Legnate... Ok... New level... Cioè... Tu merely arbet bringe in sec sitten. Eee... Ok... 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 Tell car above... Oh... Mr. Fuckist Tesoro Ho preso Ho preso una jump Perché? 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 Oh Fate una vita No, amico Ho un maniaco Che? Mi incaglio Sono un incagliatore Proprio Che non lo so cosa c'è Hai trovato i vetri? A me non mi ha preso sto stupido BOMBAA Si è sopra la montagna Per capire Per capire C'era un po' lì nemmeno uno di danno Ehm Andiamo qua Ehm No andiamo prima là C'era un po' lì nemmeno uno di d'empaio C'è un po' lì nemmeno uno di quei Imi senti Imi senti Ehm Ehm Lo to' lì nemmeno uno di quei Lo to' lì nemmeno uno di che Ehm 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 Pergamm no ma che cavolo what vabbè ok vabbè si vuole ah no no ok si vuole per giocare 25 ma vabbè nessuno vuole giocare eh c'è proprio scandalosi livelli industriali sono anch'io ok vabbè 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 what hey google dimmi il numero da 1 a 3 1 2 e 3 oh ah donna trucco e non c'è no comoda 3 4 ambiente che c'è una mille 2 mila stagione queste ce ne mancano due questo e questo partiamo da lì andiamo lì stagione siamo un pochino indietro visita city di scavo ora guida un quad il centro stagione il centro stagione host host un torero oro fortnite a lui si chiama forte posso capire per quanto riguarda le pelle di venire a giocare no un esercizio quanti erano ok va bene ok ciao dov'è l'esercizio di quella stella brutta e dall'altra punta ma che gli piassero scompigli a parte atterriamo e andiamo la fatta andiamo voi la vigla lì raga lo scivolo anatomico è qua almeno sia qua ma dove è qua non c'era un porto so I'm sorry not there is the porto I'm from porto you is the porto I'm so very not dispiashly but so very is I'm a your face in your I'm from Italy I'm so very not dispiashly but so very is I'm a your face in your I'm from Italy but I see the my your capito ho detto che sono italiano e vengo dalla Spagna I'm from Italy but I'm from Liverpool I'm real e granata piccola ora proprio la ciliegina sulla torta sarebbe trovare la pistola automatica ma sarebbe una di quelle benedizioni se un papà è che proprio no io io scioglio e scioglio e scioglio e scioglio ancora una volta ma zucco zucco vieni 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 zio ah ah sì 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 fai tutto il giro fai tutto il giro a come i i i i i i i notti noi god that's already stupid now marzo se impazzo ma io proprio ti devi cura ti devi cura proprio in modo serio qualcuno mi facciamo un spezzetto noi si troviamo pure una granata all'uono maria guarda proprio sì proprio così io sto impazzo ma io vuole venire pure qua mi scusi non lo so faccia lei ok vedrete di danno fatta buongiorno tas ora uno squadra che è servito a qualcosa nella sua vita brutta e oland ok quindi poi che ci rimane da fare un controllo tutte le sfide papai marcelli do 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 I'm from Liverpool She's from Liverpool Swimming pool Non mi va Partito del dito Mi sa che questa Questa parte non la vinciamo Ragazzi What 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 Worry this is Perché lag Ragazzi ogni tanto tiro delle lag Guazzate proprio non capisco Dai 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 E poi è scurissimo nella tempesta Ragazzi davvero Non capisci niente Perché Perché sono sfortunata A livelli proprio Cioè dici Qual è la persona più sfortunata al mondo? Io No è grande Tesoro Io l'ho fatti i danni Tra mesura potrebbe arrivare la sfida completata Ok Senta la vera botta di fortuna Ok 10 secondi morivo dalla safe Devo controllare un attimo Le sfide Adesso Ok Questa E non è quella che è fuori safe Ok Stagionali Che è Prendi un'arma Da fuoco E chi sta che è Sta modificando Modifica struttura Inoltre sta modificando So il perché Ah Funge Che fretta c'era Maledetta Primavera Primavera Prendi un'arma Good ball Prendi un'arma Prendi un'arma Prendi un'arma Prendi un'arma Prendi un'arma Oh questo fu quasi tutto abu 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 Oooooooohh Solti la miscaria Ah Lunga sembrava bello forte ma così non ci torno si 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 se si 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 Oh Morto Ma raga Questo Andava Andava A questo punto selezioniamo il mattone Siamo full Eh non ci fulliamo Ah il quattro donna Sto qua proprio Eh non ho preso le altre cure Faccio il tempo Segui quanti sei Che mi prendo Ok 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 un'intelligenza fino a due che lagga tesoro va beh è stato più bravo madonna che tra ieri da raga ci ho provato terzo da una partita che non lo so nemmeno cosa iniziata con la partita non ho ben capito matto fino a ma tu fino nisciti ciao 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 con gli ultimi attività i livelli che stiamo fa oggi raga che stagione abbiamo fatti appunto se non abbiamo fatto un voto oggi novanti carichi dove in arrivo al 100 cosa certo è venuto vita allora un ma vieni ti scrivo io sarò quindi vieni vieni quindi vieni a giocare va bene vieni sbrigati oggi ho comprato una nuova skin no 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 c'è Ascontiamoci in capo di specchi... Da un pochino di molto senso. Tanto voi non la dovreste sentire... Con una... Eh... Noi proprio... Aperta... Noi oi... Noi i'attaccaaaada. coni coni pump it up ok va bene che c'è va bene no niente allora tutto tutto chiamiamo il il fantagnomo ora puro line pure online? dai 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 vediamo i contatti stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria ah entrando su quale gioco? se vi manda qua non lo dà il cancelletto? no proprio non copio tutto il numero la segreteria il cancelletto no entrando non capace Nicola oh ovvio stiamo trasferendo la tua chiamata bene adesso è ancora online più online non è più online non possiamo più utilizzarlo no non lo facciamo Simone 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 a padre a padre ci divertiamo oggi a scherzare i nostri amici nel frattempo che aspettiamo nel frattempo che entra ce l' governance c'è ancora sì c'è l'à c'è l'à c'è l'à c'è l'à c'è l'à c'è l'au numero quando entra copia cance il letto 31 angela quello è un 3 no è stato un pochino troppi copia buona sera la chiamiamo dal servizio telecom la volevo informare che il suo servizio non è più disponibile e se non rinnova il suo contratto verrà annullato dai puoi giocare ora o mi sono comprato con la skin già sto a livello 91 92 stai a livello 92 sì perché c'è perché con quella skin basta che prendi quelle medaglie è fatto praticamente un livello se volete la regalo potrei allora lo giuro che lo faccio se esce uno te la regalo se esce due non te la regalo io lo chiedo a google allora con la videochiamata questo gnomo orrendo facciamo la videochiamata non la vedo allora guardate col giro e google dimmi un numero da 1 a 2 se esce uno me la regalo si si lo faccio pure in videochiamata guarda sta caricando sto schifoso uno guarda 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 è un pochino complicato farlo però ci sto ci sto provando guarda allora lei regala aspetta che ti trovo aspetta che ti trovo se ti trovo eccolo patte il magnifico regala acquista dono no vabbè non si credo fatto aspetta che sei fatto io le promesse le mantengo io le darei un bacca 5500 che sono un pazzo non pensavo che me la facevi veramente e ora quando entrerai ti trovi no non per la tua bacca sta accendo subito e come minimo come minimo devi giocare ogni giorno ogni minuto ogni ora no io lo diciamo a simone se non mi ammazza perché a lui non gliele faccio per 300 anni ma cosa stavi dove stavi cosa stavi facendo io nel frattempo sto pure in live quindi no vabbè lori veramente mi hai regalata è certo che te l'ho regalata scusa come sono scesi si può rimborsare no non si può proprio rimborsare pur io che l'ho comprata non la posso rimborsare no vabbè lori sei troppo forte il next level next altro che simone perché io nel frattempo sono pure in live no quindi se c'è simone che si va a vedere la live si ma ragazzi c'è ma vi rendete conto next gen c'è se c'è simone io sono rovinato fino all'eternità aspetta ma tanto se non hai le chiavi cosa scavalchi bella la tasca no giuro che se me lo dici non ti faccio più regali sei pessimo sei orrendo sei lurido sei un bestiame marcio si ma tu ci credevi che non lo facessi si credevo proprio che non lo facessi eh però google è google cioè un contesto lo dice simone sei in debito ora per una volta faccio qualcosa di buono come dice simone perché vedi poi che ricompense ti danno guarda vedi poi ti danno tutte queste ricompense e lei diventa oro ma è bellissima sta schiena si che poi fa parte del set quello ombre no non ti ammazzare magari ecco quello che sono perché l'edilizia c'è e c'è e c'è e c'è e c'è tanti altri ora non mi ricordo c'è c'è fig fifa 21 fifa 21 e tanti altri giochi c'è 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 tutto ordinato tutto ordinato ah ti immagini ho sbagliato persone non l'ho regalato a te lo sei lo sei ti immagini tipo che ho sbagliato persone non l'ho regalato a te top number one dei miei cuffie della playstation aspetta aspetta andri oh proprio tutto 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 che brutta aia ma c'è c'è ora tu sei in debito a vita lo sai vero tac 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 ma tu davvero ci credevi che non lo facevo? si eh però ho come si dice ho oltrepassato l'impossibile questo giorno passerà alla storia come il primo giorno che ho regalato una cosa a pagamento cioè i nostri figli lo studieranno cioè ma ti rendi conto? il 18 febbraio 2022 Lorenzo ha regalato una skin ma a dove si è sentita questa cosa? vediamo ooooo facciamo il rullo di tamburi ragazzi io lo sto vedendo in videochiamato ooooo perchè mi vieni le cuffie così? che facciata gay nooo padre giuro che se mi insulti guarda l'ho rimborso no sto scherzando eeeh perchè tieni le cuffie così in modo marocco? così una fuori e una dentro per sentirti se no non ti sento scusa e se ne so in direttamente andai ma nooo devo sentire pure il gioco ooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooo no vabbè ooooooooooo scemo lo scemo scemo lo scemo 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 ma ci credi? ma ci sta pure il video di questa skin si è bellissima si è bellissima a me proprio mi ha convinto subito ho rimborsato Bruno Mars e l'ho presa cioè mi viene il tempo di dai te la metti? a voglia? aspetta stavo guardando il video aspetta fammi vedere cioè sei davvero un ognuo un ognuo ma ci sta pure il secondo ma che bello! te l'ho detto io te l'ho detto io li faccio i regali belli che poi con queste skin ci puoi fare 28 livelli se non sbaglio 28 livelli si 28 livelli solo prendendo quelle gemmette cioè questa skin è la skin del secco cioè quindi tra 28 livelli tu stai a livello 90 no 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 ora dobbiamo andare assolutamente si con 28 livelli te oh no ma l'ha dato il backpack no il backpack lo fai con le sfide vedi se tu vai tra le sfide c'è monarca con set incarichi vedi poi lo sblocchi pure tutta oro mamma mia ma che è sta cosa NBA? ma che ne so ma chi se ne prega c'è da 18 mila dexp massimo ha fatto c'è proprio te ehm con sette incarichi il ah ma è bello 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 mi piace metti pronto vola del gettone? l'hai preso quello del gettone a si a me manca solo quello scala livelli a germogli girasoli manca solo quello quale? ah ma non ce l'ho come non ce l'hai cosa non ce l'hai raccogli 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 tutti ehm padri sono tutti uguali poi non ce l'hai scala livelli a dimori poi sono usciti pure gli incarichi stagionali ah quindi devi andare a dimora desertiche tu esatto no dimora allora andiamo qua no germogli girasoli dove? ehm ok germogli girasoli tanto li dobbiamo fare tutte e due quindi che poi sono uscite pure le sfide stagionali eh ah sono uscite? si mazza sono una cavolata c'è tipo fai danni modifica strutture oh prima ho fatto una partita bella tryhard no io pure ci devo andare da mezz'ora però non ci sono ancora andata forse è arrivato il momento di andarci però non mi va quando hai acceso tu? le dalle sei hm quindi tra un po' mi sa che te ne devi andare si stasera mi mani la pizza oh bella è bellissima si è proprio bella perché poi fa parte di quel di quello come si chiama di quella serie ombre e io non ce l'avevo quel set lo sai? io nemmeno questa qua è la mia prima skin di quello stile che poi è bellissima ma poi è proprio bello quello quello e poi secondo me questa skin diventerà super ultra mega tryhard se già non lo è qua dov'è che dobbiamo andare lori? ci stanno due finge li riesci a vedere ok ok mamma mia io ne voglio delle minate allora 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 cioè sei proprio felice finalmente faccio felice alla gente questo è il primo e ultimo regalo però cioè non va abituato tranquillo ora sei in debito con me di 1200 vb up allora allora e allora sta qui proprio qui sopra guarda sotto di me sta qua eccolo oh è bellissimo l'animazione come si illumina come si incosa tutto hanno migliorato la traffica da switch 12 32 fps 2 fps in più ma ha fatto per il pro o c'è un livello è come se ti essi tipo 75.000 xp alla fine facciamo 1 le buttiamo ste partite che ne dici ma si dice se ne frega il se partite prima sono arrivato terzo abbandoniamo quindi non continuiamo a fare gli incarichi scusa ci stanno tutti quelli stagionali tutti gli altri quale dobbiamo fare tutti quelli stagionali ci stanno guarda padri costruisce una struttura inizia a modificarla per 15 volte abbandoniamo i libri per finosa no mi sono inceppato a me non me la sta dando no te la dà dopo un po non è pure prima non mi ha pensato guarda me mi sto o eccola ma qua io so che ha fatta eccola ma sti gettoni qua danno un ragazzo padre a me ma no a mini hanno convinto subito c'è perché fai stavo tre livelli in cinque minuti di partita almeno siamo a terra giro un po già ho tutte armi bianche ho già fatto tre bianche ho già fatto tre livelli frate tre livelli raga io ho un'arma epica o un tipo gustoso sì ma è il nabo un po' peggio di non so cosa padri no eh stai attento che ti rovino nooo è così scarico il pad ma andagli a tremondo ma allora chi è che cammina vicino a me sto sozzo putrido ma perchè condividiamo l'aria con questa gente allora allora ha ammazzato di brutto è bellissima la notte sì ma poi guarda c'è le scarpe sono bellissime è tutta bella che poi stanno sempre sullo stesso stile e modificano solo la grafica alla fine questa schiena diventerà più tryhard del cioè se non te la gioco la sciopata a zain zain sg te lo guardi no no andiamo dai pingami la prossima gemma da prendere oh ma che allora dobbiamo prendere oh padri hanno messo le mappe del tesoro what dove posso vedere ma la padri ma la padri giuro che se non me la riteri ammazzo no no guarda guarda ah ma ci sta là vai dammela che facciamo ci andiamo ok sta là avanti dai andiamo da qua avanti vabbè tanto ci abbiamo ancora un po' di tempo ma ci abbiamo le partite c'è una donna come se fosse l'ultima partita che tanto fino al 19 fino alla fine della stagione le vuoi fare quindi fino al 19 marzo quindi sti giorni devi giocare si 19 marzo finisce la stagione va bene va bene quindi devi giocare sti giorni è pioco si tanto è appena iniziata aspetta che prendo il caricatore del pad su intanto porta mille ancora vabbè era è l'inesima volta che mi cade la switch no basta che te stai ferma oh ecco perchè qua c'è una x padri e qua che bisogna fare padri che bisogna fare e qua la x c'è da c'è da no padri aspetta fratea no vabbè se trovi questa di si è fatto il game e mi sa di si lo vuoi? lo vuoi col pompa? cioè se fu lo vabbè sprechiamole maassi questa partita io la vorrei finire eh mi sa eh ma ma guarda cosa no guarda non so proprio perché lo stai intuendo anche tu beh guarda è davvero una cosa davvero strana che stiamo intuendo la stessa cosa è strana è strana dopo dobbiamo atterrare a pinnacoli pendenti e sopravvivere per un minuto easy te la campi l'ho fatta ma tanto non ce l'ha in comune quindi peccato è quello ma sono sotto tiro un mazzo questi qua ci hanno proprio provato ad ammazzarmi prima sono arrivato terzo perché un mongral mi ha distrutto ho buccato le ruote prima che ho fatto quella partita ero praticamente full di tutti i materiali oggi credo non ha giocato? no perché va basta il mercoledì vieni qua che ci facciamo pure il cavo tanto per perché abbiamo un brutto loot vero? perché mi da un punto interrogativo? scusi insomma il brutto mi sa che sta partita la perdiamo sono sicuro che abbiamo il loot schifoso proprio guarda ce la mondiamo dopo un secondo che effettiamo uno ma tu che pompa ai io c'è il pompa tattico grande oh un altro un cecchino buono io l'ho trovato la sulla casa ce l'hai la l'asfalto buono si c'ho lmk un leggendario proprio si ho messo da dire ah perchè ti dava le armi doppio non me ne ero corretto che le dava la doppia ok vamonos dove vai? ehm padre non trovo da un'altra ah su vieni ah sia qui da qui davanti aspetta 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 stavolta il pompa lascelo a me per favore però vabbè tanto che siamo pure fuori 6 quindi è meglio tanto ci abbia merito questa volta la voglio aprire da me la fai aprire a me padre oh da compa mio vai solta io eh ok solta un pochino schifo mi prendo le splash come questo no ti prendi quello? sei sicuro? questo è molto più mirato eh da parte è meglio giocare con questo da pc è meglio quello da parte è meglio giocare con questo ok va bene mi fido mi fido l'ho preso anch'io vero che manca solo la mitraglietta peccato che non dà la mitraglietta un'unica pecca perchè noi le pecle dobbiamo trovare in ogni cosa giusto? giusto comunque questa skin con bacchetta stella ci sta davvero bene guarda io ci ho messo questo qui a parte che bacchetta stella è viola però eh infatti ci dovremmo mettere un piccone nero eh è visione vai prendi il rift andiamo non c'ho presente quale bomba sia eh 10 piccone si è un piccone stradyard visione uno con l'occhio dopo te lo faccio vedere ok vogliamo andare a provare ad andare a caverna? no eh sì io tanto arrivo su quel picco ah gente pusciamo? allora vieni qua sul ponte e ci prendiamo i guanti oppure cecchiamo ok eh però lasciamo il cecchino eh eh comunque quel puro il cecchino lo lasciamo però il cecchino in questa fase eh il fatto è che se e tu? vabbè riprende io perchè le guglie medinebbia sono troppo importanti da lasciare cioè non ah ma ce ne stanno due e allora prendiamocene tutte e due ma di cosa? vabbò e tu ce l'hai gli scudi c'ho le splash ok allora io tolgo i trascisioni oh 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 interrupted lì sotto adesso finga 37 eh ok da qua sotto Ma usciamo di cattiveria Proprio Alla cattiva 37 morto Vabbè cost'arma Padri Lì gente Mi ho rotto scudo una terra Hai ragione St'arma è troppo forte Ce li ho Padri se vieni qui da me c'è gente Sì sì arriva Lì una terra Dove lo finisco? Controllami dietro Alle spalle E appunto ci sono dei tizi Padri serve aiuto Sto da te Padri rotto scudo Attento pure gente dietro Che rottura sti qua però Lasciali lasciali padri padri 37 Dov'è questa terra? Oddio Scappa scappa Ci abbiamo gli spiderman Ho perso 4 divide Vabbè Vabbè poco importa Ok quello che ho ammazzato prima Padri scappa il più lontano possibile Che qua Tento No frate questo è forte Mi devi venire Offrimi supporto No io questo qua c'ho paura No frate questo è forte No 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 Mi butto giù Ok se mi butto giù Io provo gli spiderman Padri Eh frate Che cosa posso fare E quello sotto Vabbè Bastardi Sì 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 E quello lì Quello che stava a far Il pro player Io ho fatto 114 Morti Non è giù morti Lo butto giù Si dice che devono No Tanto padre che pure dietro E appunto Falli cadere Bazzotto Questo qua mi sa che ha leggermente labbo Non ne sono sicuro No No te l'hanno stilata da dietro padre Mi attento No no lo ho pensato Io ti consiglierei di prendere una mitraghietta Utilizzi i guanti E io puoi usci da dietro Cazzo di merda Guardalo che bastardo Eh sta lì sopra padre Dove costruisci in ferro Il mattone scusa È là Sì vabbè Mongral Eh Scusi Non sono Non sono Ah ci sono No padri Ti conviene scappare Questo qua ti Ti Frantuma In Cioè mille pezzi del puzzle 6 1 V1 V2 V2 Lì dentro c'è pure un lama Se ti potrebbe servire No già l'hanno preso Mi sa che c'è gente camperata lì Non ne sono sicuro al 100% Perché siete 6 Quindi 1 1 2 2 Sì E il fatto è che mo quando noi stiamo a livello alto Becchiamo la gente quella più forte È il livello account più che il livello Eh appunto Quello là io ho fatto 114 ma ha spammato con la mitraglietta che nemmeno so come Ok così Sta lì sopra Tanto che ti cecchino no 35 Tanto l'altro è sceso sotto Eh mi sa di sì Ti conviene scappare padri Perché stai bordo safe E la peggiore sfortuna ti potrebbe dire Eccola là Proprio quello che volevano loro Vai dietro Allora Ho un dubbio No non mi sparate in aria eh Lì sotto c'è un altro questo qua Fattelo No Padri pure dietro Attento Si fuoco i quadri crociato Si giù E vabbè 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 No 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 Questa è una posizione di me Si va Vabbè Dai su Chiamate pure No lo so chi Ok Mi rifornisco di scudi Vai Tanto sopra Dove scicchinare dalla montagna C'ho un c'ho un Eh Lory Si vuoi C'è Però attento che 35 secondi Sei fuori safe Tranquillo La safe ti toglie 5 di vita Attento che stanno sopra la montagna L'altra Questa skin mi mette energia Mamma mia davvero No sopra Sull'altra cima E' quella la Non quella L'altra La seconda più alta Non quella Padri no A destra A sinistra Quella la Vai sopra Mira in alto Con la montagna Eh A destra Eh Non là No Stanno là sotto a federe Che faccio Vai No 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 Devi avere mira fissa Almeno per 5 secondi Ma Si è suicidato Ma 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 l'hai visto pure tu che si è buttato Siete in 4 1 1 2 Devi sperare che quello lì ti ammazzi uno Così Siete 1 1 1 Ok 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 E sta partita noi la volevamo abbandonare Ok Cioè proprio L'albero Proprio No lì Stanno tutti lì al benzinaio Al benzinaio Ok Ok avanzo 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 No Padri No padri No padri Ho fatto malissimo Esatto Perché loro stanno un botto ai round Vai sopra la montagna Quella più dietro Oddio Ma da dove li spara Padri guarda Qua vai Vai qua Con gli guanti Ah è vero Scusa Ci conviene Ti conviene Tanto sono impegnati Ora Li puoi cerchierare da qua sopra Sei un pochino in safe Un pochino no E neanche se ne so accorti Eh no perché stanno fedando Eh lì c'hanno Padri Spara quelli doppi Uno v uno Non lo devi far curare Che quello là Sarà morto Come non lo so cosa Padri ti conviene pushare adesso Perché lui ha poca vita Ne sono certo Eh si è curato No Pari Fai entrare bastardo Dietro dietro Padri Via Così qua Sono mongrel Tanto che ti puoi arrivare Da tutte le direzioni Padri esci e vai E sali sopra Quei guanti Mamma mia che smirata Che ha fatto questo Ehi Maria che Giuseppe Ma che cavolo Che sta a fa' questo Ma è forte Ehi No No C'era 46 di vita Questa era Stepney No Stepney Ma era quello vero Un tre c'era Allora Ah no aspetta Mi sa che è falso Aspetta Andiamo su youtube Appunto Carga lo stavo dicendo io Stepney Era Stepney Aspetta Vedo un video a caso Era tanto quello il nome Visualizzazione dei risultati Ok Grandissimo Provo la magia sul mine Che era Stato Dopo Vedere Ho sbloccato Un po' Di livelli Carica Carica Oh Ancora Costa Ma No Giuro che Sarà Stepney No Se era Stepney Era forte Era forte Perché era forte Dai Dai No Non era lui Lui si chiama Stepney Col trattino No Padri Non era lui Era Era Con il secondo account Vabbè Però era forte Era forte Però ce la siamo giocata bene C'è una partita che dove andare A fare così Io direi di atterrare a pinnacoli pendenzi E sopravvivere per 60 secondi Che maschera mi compro Boots Che ne so Le spendo tutte Prendo tutte quelle da 10 Che mi rimangono Io pure Ho preso Ho preso tutte quelle da 10 Ho preso una fila Da 15 Quasi una fila da 15 E una da 20 Adesso Passi battaglia Stiamo un bel po' Trajardando Un bel po' Un bel po' Posso invitare un hub Un hub patentato Che non meno sa come si gira la visuale Chi è? Un amico di scuola No non mi va Perché Oh hanno messo le schifte Ho capito Non ho capito Hanno messo le schifte Uncharted Bellissimo Oddio No patrì Che gli dico? Vabbè gli dico che modi Io devo andare Vabbè Vabbè Sì Vuto Vuto Devi stare Vuto Ciao Ciao Eh io devo andare ora Ma perché prima non sei entrato? Perché mi stava affatto Ragionamento Ah vabbè dai giochiamo domani Perché ora devo andare E dove sei tu? Vabbè Ciao 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 Dai oggi ti ho migliorato la giornata Lo puoi ammettere Dai Dillo Sì è vero Grazie Grazie veramente Coppie Non terzetto Coppie Eh aspetta che mi sentivo tutto bugato Bugato Oh Oh a me ti sta seleziono Ma no Dobbiamo fare le sfide Quella di monarca Sì E io Perché poi Oggi Oggi puoi fare otto livelli Con monarca Anzi sette Perché poi escono Tra cinque Dodici E diciannove giorni Siamo andati A pinnacoli vendenti Dobbiamo andare subito A Dove ti ho messo il ping Io Proprio subito Che tanto pure Io in una partita Io prima in una partita Ho fatto tipo Sei livelli Ma Ma sì ma è una roba pazzesca A me non ho Le sfide Fai tipo un livello Ma È un pochino sgravata Sì Fa ti ricordi che bello Ho sbloccato le ali Hai sbloccato il bat pack Bellissimo Pensa quando sarà tutta oro Sbaglio che è identica Alla skin Sogno Sì Identica No io appena Riesce nello shop Me la shop Pure il sogno Mi devo fare la ricarica Anche se non ci gioco più Molto Però comunque Non la voglio fare Ma sì ma infatti Gloria Io Pensa che dopo Sta stagione Abbandono Padrino Io ti ho fatto il regalo Solo per farti rimanere Ma sì ma Fino a marzo Ancora voglia Avete tempo Vedremo la prossima stagione Come andrà Secondo me c'entra qualcosa Col terremoto Perché non so se hai visto Lì nelle zone di caverna Celata c'è un terremoto Terremoto? Sì un terremoto Dopo faccio Trema tutta la visuale Perché tipo Le talpe Dello Stanno scavando E quindi Se c'è un botto di terremoto Forse hanno scavato un pochino troppo Io padre direi di rimanere sopra un edificio Camperato un attimino Per un minuto Io c'ho ancora diversi Visita diversi luoghi No Vabbè Vabbè Vieni un pianino Da un secolo Prima che no Oh Padri Vieni qua Questa sfida Devi fare 200 danni Oh Lari ti porta un po' Vai Aspetta mi prendo la tenda Ecco qua Oh Bella questa No questa qua devi farci 200 danni Per un incalico stagionale Ma dove lo faccio? 200 danni pure un animale vale No al clombo no Fai uno di danno Fallo allo squalo A un lama Io ho quasi fatto A un A un lama O però ora dobbiamo subito andare a Dove d'ho messo il pinghio Vieni Giavola L'amburgona Ecco qua L'ho fatta Con la nombrata Occupurando Eh perché era terra Tutti in grosso Non c'è più Aspetta Beh ho visto più o meno Oh ma non c'è nessuna Pinnacola Oh ma non c'è nessuna Pinnacoli Cioè proprio Infatti Deserto Cioè se Era una partita Nella quale giocavamo Bene Dall'inizio Avremmo lottato Tutta Pinnacoli Forse c'era un team Proprio a dir tanto Oh qui c'è L'ha trovato Che c'è qua Oh ci stanno due pizza Ah una giampa e una pizza La pizza Ma prendo io se ti va Vai Oh poi c'è un flopper Andiamo a cercare Oh a me Oh prima Aspetta un attimo Mi rimango qua Mi pesco un attimo Per vedere se trovo un'arma Oh ti ho mollato il pompa Prima L'ho preso Non so se te ne sei accorto Sì l'ho preso Ok 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 hai preso la mantella Sta sopra il ponte Guarda Prima l'ho fatta Oh ho sbloccato Uno stile del No padre Devo andare Devo andare a fare Devo andare un attimo In bagno padre Non resisto più Sto per scoppiare Sto per scoppiare Sto qui dentro Mi sono nascosto Io intrattengo un po' la live Allora ragazzi Non mi vedete Ma ora sto andando Su A prendere un gettone Che serve quindi Per fare la nostra Bellissima sfida Di questa skin Che prima mi ha regalato Lorenzo Eccolo qua E' praticamente Un Un rombo Un po' strano Con una freccia all'in su Ecco qua Un livello vi da ragazzi Quindi io vi consiglio Vivamente di sciopparla Ma proprio tanto Se siete messi male Con il pass battaglia Avete un po' di WBAC Scioppatela Ok Mi sono liberato Madonna Sembra che non la facessi da un mese Senza Comunque l'ho fatta Che ho invece ne sta Non Di more Vabbè deserti Che il campeggio felice E vamonos Vamonos qua Guarda A campeggio il felice Da Ma è possibile Aspetta venimi a prendere No non ci credo che non trovo un'arma pescando No Cioè padri È possibile che non trovo un'arma pescando Non ne so io Vabbè però Andiamo Ok Trovata No Un pesce Chi è Oh Sei tu Che paura Si che ammazzo il pollo Avevi detto che bisognava fare danni con questa pistoletta Che stai facendo Boh non lo so Non me li dà Dopo un po' te li dà Oh Scappa Dove andiamo Segui il mio ping Oh Mi metti le ruote In realtà col quad dovrei mandare un attimo a caverna celata Quindi direi di utilizzare il quad a sto punto Si Non viene Non viene di più il quad Ho messo a terra Quando ti compri la Lamborghini e la mattina non ti trovi più le ruote Porco Dove sta andando? Sto facendo uscire Mi sono dovuto prendere una tannica perché Cioè C'è in grosso eh Sì sì Dopo andiamo pure a caverna celata Ah ma ci sta pure il tornado Ma dai passiamoci Le fate la sfida di stare con un veicolo in aria per tre secondi? No Allora guida tu Va bene pure un tornado Io l'ho fatta col tornado che mi sembrava più facile Eh guarda il loot padri Ok Oh padri aspetta un attimo Sono sceso Oddio Ho fatto il mio record di Oh ma ci sta un Eccolo E' questo qua Si Oh Guarda qui da me padri quanto lutto c'ha Aspetta Madonna Cioè c'è un botto di loot Perchè ovviamente il tornado ha distrutto la casa Oh ma dove sta il Sto qui dove sta il tornado Ah no eccolo Ah no io dicevo il La freccina Boh vabbè mi metto una taglia Ah sta pure vicina Tanto padre dovremmo andare a caverna celata Per fare una sfida Eh dobbiamo fare una sfida per passarci con il quad per quello che l'avevo preso Cioè ma guarda quant'è bella sta skin Ti vengo a prenderti aspetta Sì tanto sto qua Ok ci sei Cioè Vabbè dove c'è il ping blu Forse conveniva quello vabbè col quad però ci dobbiamo andare Tanto sto qua Quante ne hai fatte tu? Quattro Io te le Oh Gente sulla La data Vieni vieni Ottimo Padri no padri Ma bastardo Oh Morto A terra Frate da sopra Lancio la pizza Sento Morto Morti Mortisio Siamo mortissimi fratello Questi quali punti Ma non c'è cognosso che gli piazza la diarrea Aspetta padri Guardi che hanno eliminato le taglie comunque Guardi prenditi quella leggendaria Oh Io quella mitica Aspetta per farci il camman che mi faccio vedere questo Ho trovato quella mitica Questi mi sa che vanno Eh guarda ci stanno le Le pizzette là Oh No No senti a sto punto no Il bariletto scudo è troppo importante Da vero in game Quindi me lo prendo No comunque se l'anice granale fa troppi danni Io ho fatto il 70 alla volta quello eh E cosa dovevamo fare? Eh qui dietro dobbiamo andare Vieni Pure se è mezzo distrutto va bene Va bene così A noi ci piace così Sì Mamma mia quanto sei morti Ma questo Vabbè Va bene così Ok fatta Te la dà da? Sì Ok Cosa è successo? Sottento arcingalotto Padri qui se no non c'è più No Ammazzia Ronin Perché? Fai il duello con Ronin Perché devi fare una sfida ammazzandolo Sfida duello Ronin? Esatto No tanto ti ti butto fu Non c'è mazzo Ti droppa un po' un po' viola Ciao scemo Oh l'ho fatta una sfida Eh te l'ho detto Eh te l'ho detto Ah è vero Andiamo con l'aria Donne Qua in safe Prese già eravamo in safe Oh c'è un clombo Serio? Mi sa che c'è qualche sfida sul clombo Sbaglio? No Dove vogliamo andare? Guarda che scivolo anatomico Monumento magnificente No niente C'è qualcosa in safe? Che c'è la macchina? No 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 Non c'è niente Se vuole andiamo dal clombo Almeno ci facciamo Andiamo in safe Andiamo in safe Entra dentro così non ti Ti ammazzano Oh ma gente sta partita proprio il deserto Abbiamo trovato un altro Prima siamo sopravvissuti per miracolo eh Ah i quantoni No aspetta Sono sopravvissuti per me Ma tu prendi quelli là Però che lascia il lancio granate Sì sì Padri 1 2 2 Prendi Mi lascio le pizzette Sicuro? Gente ha preso una rifa di cure Buona Buona Tu sarai il tempo questa partita Che significa? Puscerai No padre No 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 Prenditelo te Quel pompa che c'è c'è Loiola No Però il fatto è di lasciare Di lasciare un lancio granate Ma il lancio granate che ci fai È buono solo in endgame Manco ci arriviamo in endgame A parte che siamo già in endgame E' a lui Lascio l'assalto Sto per fare una di quelle cavolate Che me ne pentirò tra gli Ce l'ho la taglietta? Sì ce l'ho mitica Ok Ok Va bene Per quello che l'ho lasciato E perché c'ho il punto esclamativo qua? Perché c'è una cosa per prendere le sfide C'è gli incarichi Quelli contro le persone Così No ci sta proprio un punto esclamativo Allora io direi di pushare a sud Lì Lì gente prova Ok hanno restato Vedo il coso viola Che facciamo? Pusciamo questi qua? Pusciamo? Ho già dato Ho già dato Hai già dato? Poi c'era un uccello viola E pure a nord ovest Nord ovest ovest Tanto uno sarà qui al camion E' gente con le ragnatele U32 32 Uno è morto E' morto quello là che gli hai fatto danno E' bianco praticamente Tremoni 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 Tra bisogno di supporto Vieni qua Questo cercava di uccidermi con il coso Padri ti copro io Oh scusa Oh scusa Vieni Fateli Copriamo Grazie sono full Mi prendo le pizzette io Ok vai andiamo Padri pusha Aspetta Allora Allora aspetta Vieni qua Che Eh sta qua padre Oh padre Eh padre Eh non mi fa costruire Non c'è un materiale Adesso stupido Ma guarda Non c'è un materiale No non c'è un materiale Sta qui sopra Sta pure qua dietro E' sceso Ce le tutte e due contro Padri 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 Lo sa che gli è cresciato raga Padri Padri Lori mi ha tirato una laggata Manco Gesù No io pensavo di averci i materiali Però non ce li avevo Non puoi capire la laggata che mi è arrivata No padre C'è un problema Che problema c'è? Mi mancano gli ultimi quattro livelli del pass battaglia E sei arrivata a livello 200 Eh si mi mancano quattro livelli Sono al livello 171 Vabbè dato con questa skin Praticamente li fai in mezzo secondo Sì infatti Simone rimarrà un po' Questa partita Cioè sta stagione Abbiamo dryardato Con gli scarichi Mi mancano solo due skin rosse ragazzi Due skin rosse Vabbè comunque pure Di stare a buon punto Cioè manca ancora Manca quasi un mese Sì alla fine della stagione Più o meno Siamo un mese a febbraio E io devo ancora fare qualcuno Beh beh andiamo Facciamolo ultimo Ah beh intanto ti aiuto da live Ragazzi noi ci vediamo domani Con la prossima live E goodbye Bye